buongiorno a tutti e buona domenica benvenuti su amola forever ma buona domenica per modo di dire ancora l'ingrazzatura per il derby mamma mia ma come si fa io io no non riesco a capire fai l'1-0 e smetti di giocare abbiamo sempre lo stesso problema questa squadra non appena va in vantaggio smette di giocare cioè ieri in un momento della partita il milan sembrava il real madrid sembrava ma naturalmente per colpa nostra perché la colpa è solamente nostra difesa che fa acqua da tutte le parti screener si è fatto scappare le au per ben due volte ci sono costati due gol poi diciamo il gol del pareggio del milan su un passaggio sbagliato da cialanoglu che poi io dico va bene il freseggio va bene tutto va bene il possesso palla ma sei in vantaggio ogni tanto se fai qualche lancio lungo anche magari che gli attaccanti non la prendono non è che casca il mondo non bisogna fissarsi sempre su quel possesso palla sul fraseggio poi diciamo la scelta iniziale l'autaro correa va bene quella è una questione di opinioni ognuno la pensa come vuole io per quanto mi riguarda io dall'inizio avrei messo gioco sempre col senno di poi perché poi diciamo gioco ce la fa 90 minuti questo è anche un punto interrogativo però diciamo se tu giochi con lautaro e correa e la snature la squadra perché la squadra ha bisogno di un punto di riferimento lì in attacco manca lukaku hai il vice lukaku che è gioco inserisci gioco dall'inizio magari puoi fare come hai fatto l'ultima partita inizi con gioco e correa e nel secondo tempo inserisci lautaro comunque il derbo mai andato è tempo per fare processi per recriminare tempo non ce n'è perché in settimana ci sarà la champions a milano verrà un bayern che in champions league va sempre fortissimo un bayern nettamente superiore all'inter però le partite si giocano perché alla fine è sempre il risultato del campo quello che conta uno magari può fare una previsione di sicuro se contro il bayern all'inter ripete la stessa prestazione del derby io la vedo nera e diciamola tutte i conti non tornano perché quei cali di tensione che ha la squadra a me non mi convincono per niente poi in zaghi diciamo con i cambi cioè attaccante per attaccante togli un centrocampista e metto un altro centrocampista togli un difensore e metto un altro difensore togli davrai inserisci d'ambrosio vabbè diciamo queste le sostitazioni sono diciamo un pochino discutibile va è stato fatto che il milano ci ha messo sotto perché nel primo tempo hai fatto solo un tiro in porta il milano già nel primo tempo ha avuto moltissime occasioni per fare il secondo e il terzo quindi amen c'è poco da dire poco da dire il derby lo abbiamo perso noi per demeriti nostri poi se uno diciamo se vogliamo trovare il pelo nell'uovo per l'ennesima volta teo ernandez due falli tutte e due da munizione in quel caso sarebbe stata doppia munizione con conseguente cartellino rosso soprattutto il primo per quella manata in faccia ma funziona così nel campionato da noi purtroppo è inutile che stiamo a recriminare funziona così e basta l'unica cosa da fare dobbiamo cercare assolutamente di riprenderci in fretta a cominciare dalla partita di champions perché quella si deve giocare perché se malauguratamente l'inter dovesse perdere contro il baian malamente e ripete una partita pessima anche contro il torino diciamo io la vedo un pochettino nera per quanto riguarda la guida tecnica della squadra poi bisogna anche pensare che il campionato si fermerà per due mesi novembre dicembre e secondo me lì i dirigenti faranno delle riflessioni per quanto riguarda la guida tecnica a me dispiacerebbe moltissimo perché io stimo moltissimo in zaghi io lo reputo un buonissimo allenatore ma diciamo che sta andando un po così così non vorrei non vorrei che ci fosse dell'altro sotto non vorrei che qualche senatore non vada d'accordo col mister perché dall'esterno quello che cripto io quello che sto criptando che alcuni giocatori non seguono più l'allenatore poi ma diciamo questa è una la mia cosa una cosa che sto criptando io naturalmente mi auguro vivamente di sbagliarmi però si va in quella direzione comunque buona domenica a tutti e sempre forza inter